C'è un congegno per il controllo delle curve che rallenta automaticamente l'auto quando le prendi a troppa velocità. Credi che mi interessi la tua macchina o tenti di evitare di dirmi perché non ti piace lavorare con me? Non c'è niente di cui parlare. Aus da bambino si divertiva a stuzzicare i formicai con un bastoncino e ora fa lo stesso con noi. Aus è uno stronzo, ma è uno stronzo intuitivo. È ovvio che sa qualcosa. Sì, sa che noi lavoriamo bene insieme. Lui adora i conflitti e cerca qualcuno da tormentare. Non facciamo il suo gioco.